Buongiorno, oggi siamo con Michele Vianello, esperto del progetto FASC che accompagna i comuni nella transizione digitale. Oggi parliamo della piattaforma digitale nazionale dati, introdotta con gli articoli 50 e 50 ter del CAD. Michele, sappiamo che la piattaforma è strategica per il Paese e per i comuni, infatti sono state indirizzate molte risorse del PNRR in questa direzione. Io se sei d'accordo farei un micro riassunto super semplificato di cos'è la piattaforma e poi approfondiamo i vari aspetti man mano. La piattaforma consente alle PA di scambiare i propri dati con altre pubbliche amministrazioni e qui scambiare significa dare e avere e questo concetto poi lo approfondiamo man mano. I dati rimangono alle serve dell'amministrazione quindi non vanno sulla piattaforma nazionale dati e le PA che aderiscono installano dei cosiddetti i services sui propri sistemi, li registrano sulla piattaforma nazionale dati che diventa una specie di anagrafe dei dati pubblici. A quel punto se una PA ha bisogno di dati, di altre amministrazioni va sulla piattaforma e se quel tipo di dati è disponibile chiede di fruirne. Se ne ha diritto il gioco è fatto. Quindi la prima domanda che ti faccio è perché la piattaforma nazionale dati è una risorsa importante anche per i piccoli comuni verso la realizzazione di quel principio once only di cui parliamo da molti anni e che non è solo un principio ma sarebbe anche un obbligo. Naturalmente Michele ti chiedo di farlo con degli esempi. Chiaramente. Allora, once only è in questo momento un diritto astratto, nel senso che non è applicato correttamente e concretamente. Perché mancava meglio un luogo di scambio dati. Il principio once only, ricordiamo a tutti, è che se un cittadino cede dei dati, delle informazioni, dei documenti a una pubblica amministrazione, nessun'altra pubblica amministrazione deve più richiederglieli. Esempio, il cittadino Vianello deve chiedere un qualsiasi sussidio economico a una pubblica amministrazione e quindi rilascia a DIMS i dati per generare la famosa ISEE. Se il cittadino Vianello va nel comune di Venezia a chiedere quella sovvenzione, il comune di Venezia non può chiedergli il documento ISEE. Il cittadino Vianello dichiara di essere a posto con i requisiti ISEE, ma è compito del comune di Venezia accedere, scambiare dati con l'IMS per avere a disposizione l'ISEE. Questo è il principio once only. Il cittadino Vianello accede al sito del comune di Venezia per compilare in modalità digitale la richiesta, la famosa richiesta di contributo per l'affitto, nel form non deve più inserire dati perché il comune di Venezia ha quei dati di pesca da NPR. Questo è il principio once only, messo in pratica. PND è il luogo di interscambio ideale di questi flussi di informazione. Quindi abbiamo visto che in questo senso la piattaforma risponde perfettamente al principio. Ci sono altre utilità per cui diventa fondamentale essere connessi a questa piattaforma? Ci sono altre utilità importanti. Per un comune, ad esempio, l'interscambio di file di grandi dimensioni, protocollati, che una PEC attualmente non può reggere. Stiamo sempre alla mia città, Venezia. Il comune di Venezia deve spedire alla regione del Veneto un file riassuntivo del piano regolatore generale. Si tratta di file molto, molto, molto pesanti. Se io dovessi stare a norma, la lettera di invio protocollata dovrebbe transitare dal protocollo alla regione Veneto e non lo regge. Le amministrazioni cosa fanno? Utilizzano piattaforme tipo WeTransfer, Dropbox, etc., che non si possono utilizzare. Piattaforma nazionale dati consente questo scambio. Un file protocollato di grandi dimensioni può essere interscambiato via piattaforma nazionale dati con la regione Veneto. Ovviamente il comune di Venezia deve aver attivato gli services in uscita, la regione Veneto deve aver attivato gli services in entrata. Quindi bisognerà lavorare molto per conciliare domanda offerta. C'è molta offerta e contemporaneamente anche un'attivazione di domanda. I dati che si possono andare a pescare tramite la piattaforma possono servire anche per il sistema delle notifiche. Assolutamente sì, perché piattaforma nazionale dati consente da un lato a SEND di leggere, SEND è la piattaforma nazionale notifiche, da un lato a SEND di leggere ANPR. Quindi ANPR è interfacciata via piattaforma nazionale dati con SEND. Talche quando una pubblica amministrazione carica su SEND, sempre in regime di interoperabilità, che ne so, 500 contravenzioni codice della strada, SEND verifica che ad esempio l'indirizzario sia quello di NPR e lo fa attraverso interazione fra SEND e piattaforma nazionale dati. Un comune ad esempio potrebbe interfacciarsi con INAD, Indice Nazionale dei Domicili Digitali dei Cittadini, per avere, usando come decriptazione i codici fiscali, tutti i cittadini che sono iscritti a INAD. Cioè è proprio un flusso di dati detenuti da diversi pubbliche amministrazioni che però diventa fluido, un po' in sangue. Cioè gira tutto in maniera molto fluida. Se dovessi, e se non voglio ampliarla molto, piena di una sorta di cuore. Cioè è quello che pompa e che rende tutto interfacciabile. Così è facile, poi in realtà ci sono delle complessità. Bellissima metafora. Senti, ma andiamo un po' più sul concreto. Abbiamo capito che ci sono un sacco di dati utili a cui si può accedere tramite la piattaforma, ma i comuni questi dati se li devono andare a prendere uno per uno o lo scambio avviene automaticamente? Ovviamente avverrà automaticamente. Quindi questo vuol dire che dobbiamo chiedere delle cose ai fornitori del gestionale. Allora, è chiaro che i nostri gestionali, i nostri intendo i comuni, devono potersi parlare via PND che il cuore con svariate banche dati. La mia impressione è che Bando PNRR ha messo a disposizione risorse ai comuni per sviluppare l'uscita, cioè i dati che mettono a disposizione, senza aver spiegato bene a cosa serviva PNRR. Per cui in realtà vedo cose fantasmagoriche in giro. Sarebbero un po' discutibili, mettiamo così, nella loro utilità. Però, per fare degli esempi concreti, attualmente BIDAP, che è la banca dati del Ministero dove si caricano alcuni dati, viene fatto manualmente. Via piattaforma nazionale dati il gestionale carica automaticamente. I servizi sociali di un comune caricano manualmente in banche dati di IMSS. Attraverso piattaforma nazionale dati si esportano automaticamente dati. L'altro esempio l'ho fatto prima sulla protocollazione. Divento matto se devo spedire un piano regolatore generale. No, il piano regolatore generale viene, diciamo così, aspirato, uso un termine domestico dal protocollo. Cosa però vuol dire? Che il mio software di gestione documentale deve essere attivato per poter parlare. Che il mio software di gestione dei servizi sociali, che il mio software BIDAP, eccetera. Ci siamo intesi. Questo però implica un grande impegno da parte dei fornitori. Fortissimo. È anche un grande sforzo per acquisire piena consapevolezza dei valori aggiunti di queste operazioni che ci sembrano bisogno ed è quello che stiamo cercando di fare. Non è un caso, Claudio, che consideriamo PND come una cosa ormai strategica. Per questo ci stiamo impegnando così tanto. È strategico. Cambia organizzativamente una parte importante del lavoro dei comuni e delle pubbliche amministrazioni. Certo. Senti, tornando sempre ad aspetti molto pratici. Prima hai citato che attraverso la piattaforma si arriva ad ANPR. Questo vuol dire che un comune che è iscritto può accedere a tutti i dati che vuole di ANPR o di altri sistemi? Questo vuol dire a monte che si rompe un grande tabù. L'accesso ad ANPR, da parte dei comuni, veniva fatto dall'anagrafe perché era considerata ANPR come il luogo di gestione di dati anagrafici. Ma come abbiamo capito, ANPR non è più solo il luogo di gestione di dati anagrafici. È una grande banca dati a disposizione delle pubbliche amministrazioni e dei comuni in particolare. Tanto è vero che con circolare del Ministero dell'Interno da maggio, mi pare, dello scorso anno, ANPR via piattaforma nazionale dati è accessibile ad ogni singolo ufficio di un comune per, dice la norma, per svolgere bene le sue funzioni istituzionali. Esempio, la polizia municipale fa una indagine di polizia giudiziaria, cosa che gli succede. E deve verificare, che ne so, una composizione di un nucleo familiare da quando risiedono in quel luogo, eccetera. Prima dovevano passare per l'anagrafe e questo, vi posso garantire, in un comune generava abbastanza tensioni fra colleghi. Oggi polizia municipale accede direttamente. Può verificare tranquillamente ha accesso quei dati. Ci saranno casi in cui c'è circolarità di dati, ad esempio l'ufficio Tributi allinea la propria canagrafica da ANPR. Quindi c'è uno scambio di dati. Polizia municipale probabilmente ha bisogno di una semplice consultazione. Cioè deve proprio verificare quel nucleo familiare, ma anche servizi sociali. Deve verificare se ci sono dei minori, eccetera. Ok? E capite che è molto importante questo. Certo. Senti, ma visto che comunque il collegamento alla piattaforma richiede comunque anche uno sforzo da tutti i punti di vista, se tu dovessi consigliare un piccolo comune, quali sono, diciamo, gli accessi più utili, i primi che bisognerebbe attivare? Abbiamo sicuramente capito ANPR in modo da svincolarsi dal passaggio attraverso l'anagrafe. L'altro potrebbe essere l'Inps con l'Ise. L'Inps per l'Ise. Questo ad esempio sarebbe fondamentale. L'Inps per l'Ise. Ma ad esempio anche quello scambio di dati con altre pubbliche amministrazioni, anche questo sarebbe abbastanza... dati protocollati, eccetera. Questo potrebbe essere abbastanza importante. Avrebbe un suo perché. Anche perché non c'è un limite agli API di fruizione. Cioè mentre quelli attraverso i quali tu dai sono legati ai numeri PNRR, quelli che tu acquisti per fruire di dati di altri, non c'è un numero. Ovviamente c'è un problema risorse fornitore, ma se io dovessi partire da una roba NPR, questo in primis. Poi ovviamente Inps, perché vuol dire tutto il sociale. Però se si va a verificare la banca dati delle API fruibili, ogni giorno se ne aggiungono. Sì, ormai l'Inpo è molto grande. Molto grande appunto a seconda del settore, del servizio, dell'attività dell'ufficio poi si va a scegliere e questo significa poter automatizzare i passaggi che prima automatici non erano. Se te pensa solo un ufficio lavori pubblici o un ufficio tecnico a banche dati cartografiche infinite a disposizione. Una polizia municipale a banche dati legate alle targhe. C'è di tutto volendo. Con un po' di pazienza bisogna verificare chiaramente cosa c'è, ma c'è tanta roba ormai. E invece passiamo al lato del dare alla piattaforma, perché ai piccoli comuni viene richiesto anche di dare. Quali sono il tipo di dati, qual è il tipo di dati che sono i primi che ogni piccolo comune dovrebbe rendere fruibili attraverso PDND? E qui bisogna un po' chiedere ai fornitori di uscire un po' dalla pigrizia, perché vedo, mettono, che ne so, amministrazione trasparente piuttosto che albo pretorio, ma onestamente ci serve poco. Io lavorerei molto su BIDAP, io lavorerei molto su INPS, perché INPS è un peso nel lavoro dei servizi sociali. Quindi ad esempio la possibilità per INPS di beccarsi i dati direttamente, questo ad esempio allevierebbe tantissimo, tantissimo il... Ho visto alcuni ad esempio mettono, come si chiama, gli indici, i numeri delle strade, i topografici. Va bene, va bene, però un piccolo comune, certo diamo, ma il problema è che dobbiamo imparare a cosa prendere, perché in realtà c'è il mondo e ti allevia infinitamente il lavoro. Abbiamo molto da lavorare nella formazione, perché questa roba più giro i comuni meno è chiara, bisogna sperarglielo bene, anche nei grandi e non solo nei piccoli. Bisogna rendersi conto che attraverso la piattaforma cambia proprio il modo di andare a configurare i procedimenti e il modo con cui erano realizzati fino a ieri. Attenzione, ne aggiungo una che Claudio sa, ma anche molti che ascoltano sanno, a me è molto cara. Il tema della fascicolazione digitale. Cioè la norma prevede che quando tu fai un fascicolo digitale dovresti mettere anche il nome delle amministrazioni partecipanti a quel procedimento. Questo perché quel fascicolo dovrebbe essere consultabile anche da altre pubbliche amministrazioni. Quindi io sto edificando un nuovo edificio. Devo chiedere un parere alla sovraintendenza. Non avviene più con scambio epistolare. La sovraintendenza accede al mio fascicolo. Questo ad esempio sarebbe interessantissimo da sviluppare e fa capire anche l'importanza di fascicolare digitalmente. Il fascicolo in un gestionale diventa anche luogo di interscambio di documenti affini di procedimento. Questo è peraltro nelle linee guida agile, nei metadatti. Questo è già previsto oggi. Sarebbe già un obbligo di avere la disponibilità di questo. Peraltro poi le linee guida sull'interoperabilità lo sviluppano anche tecnicamente. Quindi queste cose sono assolutamente mature. Ovviamente c'è bisogno di uno sforzo anche da parte dei fornitori. Qui non si scappa. Perfetto. Michele, io ti ringrazio. Sei stato come sempre. Ringrazio a te. Possiamo permetterci di anticipare che su questi temi torneremo ancora su questi schermi. Perseguiteremo a lungo ancora i nostri comuni. Grazie a tutti. Grazie mille. Ciao Claudio. Grazie. Grazie.